Sono le 17.03, ora italiana, quando al controllo missione arriva il segnale di conferma che Phile, dopo sette ore dal distacco da Rosetta, ha toccato la superficie della cometa 67P. Il contatto è stato morbido, due rimbalzi alti e lunghi che nemmeno Neil Armstrong. La gravità sulla cometa infatti è bassissima, 10.000 volte inferiore a quella della Terra. Finiti i rimbalzi, Phile si ferma in un luogo fuori programma, un sito ignoto. Dalla Terra, però, intuiscono che sta bene e funziona, perché il lander comincia a mandare immagini panoramiche della sua posizione. C'è però un problema. Phile è in ombra e la luce del sole serve per ricaricare le batterie. Dopo due giorni di esperimenti scientifici e dati inviati a Terra, Phile entra in ibernazione. Sette mesi dopo, il 13 giugno 2015, Phile si fa risentire e comunica con Rosetta per appena quattro minuti. Pochi, ma sufficienti per inviare un pacchetto di dati e per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. La cometa si sta avvicinando al sole sempre di più, per cui ci si aspetta che presto Phile si rifaccia vivo e ci finisca di raccontare com'è lassù.